Nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell'istituzione Marsala Scola. Su Marsala Scola si è sempre registrata una forte divisione nella politica marsalese, afferma il sindaco Massimo Grillo, tra chi ne ritiene necessaria l'esistenza e chi invece ne ha un giudizio negativo. Quando negli anni ne è stato proposto lo scioglimento, il consiglio comunale ha sempre scelto il mantenimento di questo ente. Io e la mia amministrazione, continua Massimo Grillo, pensiamo che prima di manificare un'esperienza ventennale, bisogna fare un'analisi oggettiva dei costi-benefici qualunque decisione si assumerà. Terremo conto della salvaguardia dei livelli occupazionali, delle professionalità che negli anni si sono create all'interno dell'ente e della qualità dei servizi scolastici. A maggior ragione in un periodo in cui il mondo della scuola è già sotto stress a causa della pandemia, privarsi di un ente che comunque la si pensi in questi decenni ha garantito con continuità i servizi alle scuole marsalesi potrebbe rivelarsi una scelta intempestiva. Alla luce di questo, continua Grillo, la nomina del nuovo CDA di Marsala Scola ha proprio questo significato. Da un lato garantire continuità amministrativa ai servizi scolastici in un periodo di particolare difficoltà, dall'altro programmarne il rilancio. Si è ritenuta inopportuna la nomina di dirigenti interni per un potenziale conflitto di interesse e di funzionari oggi particolarmente oberati e in numero ridotto rispetto al reale fa bisogno. Il nuovo CDA, a cui auguro buon lavoro, conclude ancora il sindaco Massimo Grillo, nei prossimi otto mesi avrà il compito di vagliare la sostenibilità economica e il rilancio dell'ente Marsala Scola. Se alla fine di questo periodo ci trovassimo di fronte a una situazione di oggettiva insostenibilità economica dell'ente e di impossibilità di un rilancio delle sue attività, ne prenderemo atto per programmarne lo scioglimento. Il sindaco Massimo Grillo ha chiamato a presiedere il CDA l'avvocato Sergio Bellafiore, mentre gli altri due componenti che ne fanno parte sono il dottor Salvatore Virzi e la dottoressa Luigia Ingrassia. Dall'atto di nomina si evince che la durata quinquennale dell'incarico, come prescrive lo statuto dell'istituzione vigente dal 2016, potrà essere inferiore laddove il Consiglio Comunale, in sede di razionalizzazione delle partecipate, deliberi lo scioglimento dell'istituzione.